Roma dicembre 2010 fa freddo anche in Italia ci sono persone per le strade che amano che passeggiano a volte fanno shopping belle persone felici nella luce delle vetrine che cercano un serenità ci sono persone che scalano i palazzi persone sui tetti che aspettano nel crepuscolo i primi a salire sui tetti furono gli operai poi gli immigrati ora gli studenti e i ricercatori salgono per attirare l'attenzione si mettono sopra il palazzo sopra l'istituzione che li contiene non vogliono disturbare le persone per strada chiedono solo attenzione futuro rispetto a ma Grazie.